Stefano Mugnai, candidato capolista di Forza Italia per la Camera dei Deputati. Lei ha definito il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sulla distribuzione assicurativa, la famosa ADD, l'ultimo sgarbo del governo in uscita. Perché questa affermazione? Perché vi è la sensazione che come gli eserciti in rotta di qualche secolo fa, quando scappano, quando lasciano il potere, lasciano dietro di sé il fuoco, il deserto, bruciano le praterie dietro di sé. Vi è la sensazione che questo governo sciagurato e poi l'ultimo di una serie di governi sciagurati, nessuno di quali ha mai avuto un minimo di mandato elettorale, sapendo, essendo consapevoli che l'appuntamento elettorale non sarà per loro una passeggiata di salute, ma ci sarà un giudizio severo dei cittadini, vogliono lasciare dietro di sé macerie. Si sta parlando di un settore importante e questo è un decreto che ha potenzialmente la capacità di distruggere, di uccidere, di sterminare un settore importante dell'economia del nostro paese. Il Presidente del Sindacato Nazionale Agenti, Claudio De Mozzi, insieme alla categoria, sta sollecitando perché si comprenda la primaria necessità di eliminare questo provvedimento o quantomeno di tentare di modificarlo. Quale sarà il vostro impegno, qualora foste al governo dopo i 4 marzo? Noi ci auguriamo che questo accada, non è soltanto la mia presa di posizione, ma anche altri colleghi, anche ben più autorevoli di me, già parlamentari di Forza Italia, in primis il capogruppo Renato Brunetta, si è già espresso in merito e quindi, come dire, si tratta di aspettare qualche ora, perché se poi le cose dovessero andare come noi lo spieghiamo e quindi se il centrodestra si troverà ad avere la fiducia dei cittadini e qui ad essere chiamato ad assumersi la responsabilità di governare il paese, l'impegno è un impegno collegiale, non soltanto del singolo candidato Stefano Mugnai, di affrontare la questione e azzerare quel decreto che è un decreto sciagurato, uno dei tanti purtroppo. È stato definito appunto un decreto legge mortale, un decreto che annulla tra le tante cose l'incasso dei premi in forma diretta per gli agenti e i subagenti, introduce delle sanzioni di natura completamente sproporzionata rispetto alle reali possibilità di una normale agenzia di assicurazione. Le chiedo, secondo un suo parere, questo decreto secondo lei è frutto di un articolato disegno per colpire, come lei poi ha scritto nel suo comunicato, dei comparti che ancora si reggono in piedi oppure è frutto di una non conoscenza delle reali ricadute sulla categoria che questo decreto porterebbe? Vorrei pensare che fosse frutto di malafede, magari, è un settore che ha fatto qualcosa agli attuali ministri esponenti del nostro governo, io temo invece sia proprio frutto di cialtroneria che è pure peggio, perché essere chiamato a governare un paese importante e complesso come il nostro non si può farlo con improvvisazione, ma del resto, guardate, io vivo ad Arezzo, quando fu fatto il decreto per salvare gli sparmatori, poi si sono accorti che gli sparmatori venivano uccisi, quindi vi è una cialtroneria diffusa di una classe dirigente inadeguata a guidare il paese. Ecco, da un lato possiamo, riprendendo l'ADD, vediamo che questa sottolinea la centralità dell'intermediario, mentre il recepimento dello Stato va di tutt'altro versante, va proprio verso la completa disintermediazione. Secondo lei perché? Perché l'inviano cultura politica è quella della sinistra, dove gli spazi di libertà, di autonomia e di impresa sono sempre guardati con sospetto. E questo è un settore importante che smuove interessi importanti, dà lavoro a tante persone, e se è vero che i posti di lavoro non si creano per decreto, però altrettanto è vero che per decreto si possono distruggere posti di lavoro. Ecco, questo è un decreto che evidentemente si pone la finalità, in maniera consapevole o inconsapevole, di distruggere un intero settore con tanti posti di lavoro, un pezzo dell'economia del nostro paese. Ecco, dal suo comunicato stampa è esplicito il sostegno al sindacato nazionale agenti, allo SNAH. Perché ha deciso di sostenere questo sindacato che è la maggior rappresentanza sindacale della categoria? Ognuno deve fare il proprio ruolo in maniera corretta e anche autonoma, quindi la politica fa il proprio lavoro e il sindacato pure. Ma quando le battaglie sono condivise e si condividono gli obiettivi non c'è niente di male di fare un percorso insieme, un percorso in comune e questa è una battaglia che il vostro sindacato ha condotto e sta conducendo con grande determinazione ed è una battaglia ai cui obiettivi noi condividiamo in pieno e quindi per noi è un onore essere al fianco del vostro sindacato.